Buongiorno amici sportivi di Sport Mediaset, buongiorno. Oggi è il 40esimo compleanno di un super campione, Luis Scola dell'Argentina, che quest'anno giocò per l'Olimpia Armani Milano, grandissimo campione, ha vinto medaglia d'oro olimpico nel basket con l'argentino, con questa squadra qua, nel 2004. Quest'anno, 2020, sarebbe stato la quinta Olimpiade di Luis Scola, pareggiando il record di Oscar Schmidt e anche di Theo Cruz di Porto Rico. Non ci saranno le Olimpiade quest'anno, spero che Luis Scola a 41 anni potrà fare il 2021, proprio sul quinto Olimpiade, lo merita. Questo è un giocatore eccezionale, grande record di club qui in Europa, Tau Vittoria, adesso con l'Olimpia Milano, lunga carriera dell'NBA, dove ha giocato per diverse squadre, Houston Rock is tanto per dire, ma Luis Scola ha vinto medaglia d'oro con l'Argentina. L'Argentina ha cinque Olimpiadi, cinque Olimpiadi, oggi è molto difficile qualificarsi per cinque. L'ha fatta l'Argentina, grazie soprattutto a questo uomo qua. Ma vorrei spessare una lancia per lui come grandissimo esperto dei fondamentali di basket. Se io devo dire quale giocatore nella storia del basket ha più idee su piedi perno, come giocare con piedi perno, lui testa nella classifica. Metta lui con Bill Walton, metta lui con George Mikan, dei grandi nomi di tutti i tempi. Il suo passo di incrocio, finta, passo intorno, grandissimo. Spero che qualcuno abbia fatto dei filmati di lui per i bambini futuri, per dire, così si gioca basket. Lui è un grande professore, scuola fa scuola, assolutamente. Un grande saluto a un grande campione, da coach Dan Peterson. Amici sportivi, ciao a tutti. Amici sportivi.